buongiorno buongiorno ai nostri telespettatori benvenuti a filo diretto come sapete il nostro appuntamento con l'informazione dalle 12 alle 12 30 circa come sempre dopo dieci minuti ci collegheremo con la redazione del nostro telegiornale che ci darà gli aggiornamenti delle principali notizie che poi vedrete e sentirete appunto all'interno del nostro telegiornale alle 12 30 oggi come siete abituati ogni 15 giorni c'è l'appuntamento con la nostra azienda ospedaliera di alessandria che ve lo ricordo è un'azienda ospedaliera universitaria e anche di ricerca quindi questo ci fa bene fa bene alla nostra azienda ospedaliera ma naturalmente fa bene anche a noi come futuri pazienti anche se naturalmente uno in ospedale spera sempre di entrarci il meno possibile allora do subito il benvenuto alla dottoressa analisa rovetta che è la responsabile dei laboratori di ricerca d'airi che è il dipartimento di attività di integrazione ricerca innovazione l'ho detto bene buongiorno 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 dottoressa per l'invito allora è certo no dico le persone sperano sempre di entrare il meno possibile in ospedale per farsi sottoporre operazioni ed esami però nel caso l'idea o il fatto di avere un'azienda ospedaliera che fa ricerca ed è in diretto contatto con l'università fra l'altro lunedì università alessandrina è una buona cosa perché significa che la ricerca la ricerca di alimentazione è mettere in pratica quello che è un'azienda ospedale noi oggi parliamo di colesterolo e di ipercolesterolemia l'ho detta bene cioè avere un colesterolo alto giusto? ecco che cosa significa un colesterolo alto? c'è da preoccuparsi? allora quello di cui le vorrei parlare è un progetto di ricerca che abbiamo scelto di dedicare all'ambito del rischio cardiovascolare quindi non unicamente alla presenza di grassi nel sangue ma in relazione ad una serie di fattori di caratteristiche della persona che può quindi avere un rischio minore o maggiore di sviluppare eventi cardiovascolari questo progetto integra le competenze e le conoscenze dell'informatica informatica medica e intelligenza artificiale quindi questo lavoro è in strettissima relazione all'interno del laboratorio integrato di intelligenza artificiale e informatica medica che abbiamo integrato con il dipartimento di scienza e innovazione tecnologica dell'università del Piemonte orientale è un progetto che è partito con una fase preliminare rivolta ai medici di medicina generale ovviamente l'intelligenza artificiale, le tecnologie e tutti i supporti innovativi possono essere davvero un vantaggio per il medico che deve confrontarsi con le linee guida mediche ovvero una serie di raccomandazioni del mondo scientifico medico che lo aiutano a scegliere il percorso migliore per il suo paziente Ecco dottoressa, come interviene l'intelligenza artificiale in questo caso? perché non è che c'è una macchina che fa tutto al posto vostro vi mette in correlazione più velocemente, credo, poi lei mi correga, dei dati in modo tale che voi forse avviate una visione più ampia e soprattutto più veloce di quella che è magari la situazione è così o mi sbaglio? Sì, allora l'intelligenza artificiale deve essere vista come un supporto un supporto alla decisione medica ovviamente non si sostituisce, non si sostituirà mai al medico nel nostro caso vogliamo utilizzare queste tecnologie a scopo educazionale quindi, come le dicevo, in una prima fase abbiamo svolto una parte di progetto aiutando i medici attraverso GLER è una informatizzazione di una linea guida medica per appunto trattare il paziente in questo contesto particolare di integrazione con l'Università del Piemonte Orientale avendo quindi gli studenti del corso di laurea in medicina e di chirurgia abbiamo deciso invece di rivolgerci a loro perché saranno i medici dei prossimi anni e quindi vogliamo già con loro partire con un progetto di ricerca e a scopo proprio educazionale quindi un assistente virtuale che gli aiuta nella conoscenza della linea clinica medica sul rischio cardiovascolare questo è un progetto in cui è coinvolto il professor Luigi Castello lui ha creduto fin dall'inizio in questo lavoro e abbiamo appunto deciso di partire con la progettualità vera e propria nell'autunno di quest'anno coinvolgendo gli studenti del quarto e quinto anno della scuola di medicina sedia di Alessandria e che cosa faranno questi studenti? cioè verranno all'interno del reparto, in ospedale? sarà un corso sarà un progetto di formazione in cui avremo una classe di studenti che verrà suddivisa in due gruppi una classe verrà formata in modalità tradizionale e l'altra invece avrà a disposizione questo strumento tecnologico informatico questa doppia formazione, questo tipo di doppia formazione vi permette, lo fate perché? per confrontare come sia meglio fare la formazione? come sia meglio fare formazione e soprattutto per adeguare per migliorare uno strumento che è stato realizzato dagli informatici dell'Università del Piemonte Orientale e che deve essere personalizzato sulla base delle esigenze in questo caso quindi dicendo parlando di un progetto educativo deve essere personalizzato in modo che lo studente possa imparare anche dei propri errori quindi ci saranno ovviamente grazie al coinvolgimento di medici di medicina generale del professor Castello che si sono appunto resi disponibili i protagonisti per la realizzazione di casi virtuali quindi di pazienti virtuali che possano rispecchiare quella che è la normale realtà di un paziente e che possano essere appunto utilizzati dagli studenti come casi studio per apprendere la complessità della linea guida clinica sul rischio cardiovascolare che contempla ovviamente il livello di grassi nel sangue ma anche il paziente a tutto tondo quindi se ha diabete, se ha insufficienza renale nel suo complesso allora lei sa che quando c'è immagino che lei quando va a cena e dice che è un medico se c'è attorno a lei io sono un biologo è un biologo qualcuno però sicuramente tirerà fuori gli esami del sangue e dirà oddio allora noi adesso parliamo di colesterolo che peraltro di iper magari di un colesterolo alto che riguarda tante persone ci sono dei è vero questa cosa che si dice per cui spesso e volentieri negli ultimi anni i livelli massimi di colesterolo vengono diminuiti cioè l'indice massimo per in qualche modo poi indirizzare il paziente verso un aiuto farmacologico allora tutte le risposte sono contenute nella linea guida di cui le parlavo quindi dobbiamo considerare che non siamo tutti uguali possiamo essere suddivisi in gruppi in base alle nostre caratteristiche in base alla nostra genetica in base al nostro stile di vita e sicuramente i livelli diciamo le soglie di colesterolo da non oltrepassare sono correlati al fatto di avere ad esempio già avuto un evento cardiovascolare un infarto o meno nell'ultimo periodo diciamo è uscita la linea guida nel 2019 sicuramente i limiti sono stati abbassati proprio in diciamo in una situazione di estrema sicurezza per il paziente poi ovviamente la terapia farmacologica è da declinare sulla base appunto della caratteristica delle peculiarità del singolo questo è un lavoro ovviamente del cardiologo in gruppo in equip con altri specialisti il diabetologo ad esempio il nefrologo va costruita e va personalizzata su ognuno di noi quindi la linea guida ci aiuta un po' a stratificare tutta la popolazione sulla base di rischi e poi ovviamente è un percorso clinico di follow up del paziente che è più o meno a rischio senta che cos'è invece l'ipercolesterolemia ossia avere il colesterolo alto dal punto di vista genetico cioè lo si produce indipendentemente dallo stile di vita che si ha sì per genetica spiegato in maniera molto molto semplice per quanto si possa stare molto attenti nella propria dieta c'è una bella componente di colesterolo che viene autoprodotto ma diciamo questo è una cosa che poi andrà peggiorando verso l'età si può no questo è genetica quindi vuol dire che nasciamo così poi fortunatamente ovviamente la frequenza delle diverse tipologie delle differenze genetiche è anche in alcuni casi più rara o meno rara si parla poi di un diciamo di dislipidemie quindi di presenza di grassi nel sangue in maniera diversa dovuti a a situazioni genetiche un pochettino diverse quello che ovviamente vogliamo fare quello che si raccomanda anche nelle linee guida è riuscire a modificare quindi a lavorare su tutti i fattori modificabili lo stile di vita l'attività fisica l'alimentazione per quello che è possibile e quindi questo è un un progetto importante anche perché poi andiamo nell'ambito dell'educazione sanitaria certo quindi in questo progetto che ecco non l'ho ricordato ma è un progetto che ha ottenuto un finanziamento il nostro dipartimento il DAI ridiretto dal dottor Antonio Manconi appunto ci sprona e ci stimola ad avere idee nostre possibilmente realizzate all'interno della nostra rete di laboratori per questo ci siamo integrati con l'Università del Piemonte Orientale con diversi laboratori accademici di ricerca diciamo coinvolgendo i clinici dell'azienda ospedaliera universitaria di Alessandria specializzati ovviamente in settori specifici in patologie specifiche e abbiamo ottenuto un finanziamento da Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Casa Depositi e Prestiti proprio per la realizzazione di questo progetto che durerà due anni abbiamo terminato il primo anno il lavoro era principalmente di preparazione quindi di acquisizione della linea guida a livello informatico è un progetto più ampio che coinvolge l'Università degli Studi di Torino che è capofila e anche l'Università degli Studi di Napoli certo senta se io invece le dico microplastiche come entra questo discorso che abbiamo letto tutti anche nei giorni scorsi sui vari giornali che sono stati comunque trovati delle microplastiche all'interno del nostro organismo e uno non sa neanche come può averle ingerite però però ci sono voi state facendo uno studio su questo? noi abbiamo avviato un gruppo di lavoro che coinvolge Piemonte e Liguria proprio recentemente nella settimana ci siamo incontrati e ci siamo confrontati all'interno di un workshop proprio sul tema microplastiche e salute in particolar modo nell'ambito della nefrologia con il professor Quaglia che è direttore della nefrologia dell'azienda ospedaliera universitaria e abbiamo iniziato da questo workshop principalmente per incontrarci per conoscerci sono intervenuti nefrologi genetisti ingegneri biomedici coinvolgendo anche l'università degli studi di Brescia perché con lo stesso approccio multidisciplinare vogliamo appunto valutare la presenza di microplastiche o nanoplastiche all'interno dei fluidi biologici o dei tessuti di pazienti che ovviamente per la realizzazione di queste progettualità verranno informati attraverso un consenso dedicato e quindi valutare la caratterizzazione perché è un mondo cioè è un mondo di polimeri di additivi che possono entrano nel nostro corpo attraverso l'ingestione l'inalazione o anche semplicemente per contatto quindi questo è un filone nuovo che vogliamo percorrere e lo vogliamo fare già insieme ad altri colleghi che se ne stanno già occupando anche a livello internazionale ma dottoressa mi immagino che già delle indagini ci saranno in questo proposito come si fa per contatto ad entrare in contaminazione con le microplastiche non so delle creme nei cosmetici ah nei cosmetici nei cosmetici quindi l'abbiamo subito sì e anche attraverso gli indumenti poi ovviamente capire come la microplastica entra e come viene anche smaltita come invece si diciamo si va ad annidare in alcuni tessuti in alcuni organi è proprio oggetto di studio non c'è molto in letteratura in realtà soprattutto in ambito di salute di patologie del rene e noi vogliamo partire proprio proprio da questo contesto ovviamente non possiamo ancora parlare di effetto tossico ma noi vogliamo capire quali tipi di plastiche in che dimensioni come si accumulano dove si accumulano quindi è un lavoro ancora principalmente diciamo di ricerca preclinica certo allora io vedo le chiedo di fare insieme a me una breve pausa perché vedo già che ti procedo pronta per darci gli aggiornamenti di quelle che saranno le nostre principali notizie all'interno del telegiornale delle 12.30 una breve pausa pubblicitaria e poi ritorniamo a parlare ancora qui con la dottoressa Annalisa Rovetta di colesterolo di colesterolo alto di come fare ma soprattutto degli studi che si stanno facendo al diary di Alessandria per capire quali sono gli effetti sulle persone allora tra poco a te Ketty grazie Cristiana e come sempre un buongiorno anche all'ospite di Filo Diretto come sempre tante le notizie alle 12.30 apriremo con una nuova allerta gialla per quanto riguarda il Piemonte questa mattina all'alba si sono verificati dei nubifragi delle grandinate nella zona del Toridese e del Cannavese nel pomeriggio è di nuovo attesa un'ondata di maltempo e che dovrebbe colpire le stesse zone che sono già state flagellate dalle piogge e dalle grandinate dei giorni scorsi e c'è stato ieri sera un animato consiglio comunale ad Alessandria dove la minoranza ha chiesto alla maggioranza spiegazioni per quanto riguarda alcune situazioni che stanno tenendo banco negli ultimi giorni ossia la situazione dell'Amag le ultime vicissitudini più che negative dell'Alessandria Calcio e poi anche quelle della centrale del Latte ma è stata anche la serata nella quale hanno fatto l'ingresso i neo-assessori e consiglieri rinominati nella giunta di Giorgio Abbonante a Oviglio nell'Alessandrino proseguono le ricerche dell'81enne che è scomparso ieri mattina da casa sulle sue tracce vigili del fuoco carabinieri e protezione civile e infine partivano dal sud per arrivare al nord e compiere rapine in villa in un'operazione congiunta dei carabinieri di Pinerolo e della guardia di finanza di Torino è stata sgominata una banda cinque persone sono finite in manette questo è ovviamente molto altro parleremo ovviamente anche dei centauri che arriveranno nel prossimo fine settimana qui ad Alessandria a tra poco allora la seconda parte del nostro programma oggi è dedicata alla medicina e ai tanti studi che si fanno qui nell'azienda ospedaliera di Alessandria ne parliamo ne stiamo parlando con la dottoressa Annalisa Rovetta che è responsabile dei laboratori di ricerca del DAI stiamo parlando di colesterolo alto stiamo parlando non tanto di quelle che possono essere diciamo le indicazioni per abbassare il colesterolo che bene o male noi affettiamo da colesterolo alto bene o male sappiamo ma di interessanti studi che ci sono tra l'ospedale di Alessandria che mette in contatto e in qualche modo arruola tra virgolette gli studenti della facoltà di medicina per capire come affrontare i malati quelli che hanno il colesterolo alto utilizzando anche per questi studi di formazione l'intelligenza artificiale perdiamo però anche di un premio di cui ci siamo occupati anche noi come telegiornale questa settimana che è il premio Riccoboni è un premio che rappresenta veramente una gratificazione per tutti i componenti dei laboratori di ricerca perché la Riccoboni Holdin ha diciamo sposato le nostre attività di ricerca anche per ovviamente motivi di interesse comuni legati all'affetto dell'ambiente sulla salute e nel 2023 ha finanziato il miglior progetto di ricerca che viene presentato realizziamo un bando vero e proprio proprio poche settimane fa forse una decina di giorni fa abbiamo presentato la seconda edizione di questo premio che grazie alla integrazione con la fondazione Solidal mette a disposizione questa cifra al miglior progetto che verrà presentato al bando l'edizione scade il 25 di ottobre quindi c'è tempo per presentarsi fino al 25 di ottobre sì ma di cosa di cosa parla questo premio abbiamo detto prima che è il microbiosm microasm 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 è il progetto del premio che ha vinto la prima edizione ha a che fare col microbiota ha a che fare con il microbiota sì e l'asma sì nell'edizione precedente del 2023 sono stati 11 progetti che sono stati presentati da tutti i ricercatori dagli ospedalieri che afferiscono alla struttura dei laboratori di ricerca ovviamente non è stato semplice decretare il migliore perché davvero tanti presentavano degli spunti molto molto interessanti alcuni anche con dati preliminari già ottenuti da precedenti progetti ovviamente come in diciamo in tutte le premiazioni viene stabilita una commissione di valutazione e il progetto che è risultato vincitore ha avviato lo studio sulla diciamo correlazione tra la flora batterica intestinale di bambini dai 6 ai 9 anni che sono seguiti presso il presidio pediatrico di Alessandria di Alessandria che diciamo hanno asma asma bronchiale e questo perché in letteratura ci sono diverse evidente sulle caratteristiche della diciamo della flora batterica intestinale e la correlazione e la suscettibilità a patologie soprattutto di tipo allergico ecco ma devo dire che grazie alla frequentazione di voi medici dottori nei nostri studi abbiamo imparato a capire in quest'ultimo anno e poi anche da molti articoli sui giornali che il microbiota è un po' come dire la la sfera di cristallo dalla quale si sta facendo partire un sacco di ricerca perché molte patologie possono essere correlate ad un buono stato di salute o meno del nostro microbiota che tutti abbiamo esattamente in questo è protagonista il laboratorio integrato di sequenziamento il referente è il dottor Andrea Rocchetti della struttura di microbiologia dell'ospedale di Alessandria anche in questo progetto ovviamente intervengono diverse figure professionali tra queste il coordinatore di ricerca il data manager oltre ovviamente ai microbiologi ai ricercatori universitari e i pediatri in questo caso perché appunto è attraverso la collaborazione con la pediatria diretta dal dottor Felici l'arruolamento è un termine forse un pochino brutto ma è un termine un pochino più tecnico diciamo il coinvolgimento di piccoli pazienti ovviamente i genitori vengono preventivamente informati della possibilità appunto di partecipazione dei loro piccoli a questo studio si tratta di uno studio non invasivo non invasivo assolutamente che nella normale diciamo nel normale standard di cura all'interno di un percorso clinico che è già standard viene richiesta appunto la collezione di un campione di feci sul quale ovviamente vengono fatte determinazioni e vengono fatti analisi di sequenziamento per studiare la composizione vedere appunto se qualche specie è presente in percentuale maggiore o minore e diciamo studiare dal punto di vista descrittivo questo progetto è in una fase iniziale quindi studieremo circa è già partito è già partito sì dovremmo concludere appunto la collezione dei campioni in settembre e verranno coinvolti dai 20 ai 30 bambini questo ci permetterà insomma di acquisire le prime diciamo le prime evidenze e poi poter invece pensare ad uno studio più complesso va bene allora io ringrazio molto la dottoressa Annalisa Roveta che è la responsabile dei laboratori di ricerca del Dairi abbiamo parlato dunque della azienda ospedaliera universitaria di ricerca di Alessandria grazie allora per essere stata con noi e vedremo allora che cosa verrà fuori da questo studio molto interessante grazie ancora dottoressa grazie a voi per averci seguito ora io vi lascio al telegiornale grazie a tutti grazie a tutti